eccoci qui oggi finalmente con quick 2 enhanced oggi ragazzi iniziamo il primo appuntamento sul canale spero che vogliate seguire questa serie mia compagnia naturalmente ragazzi ci saranno sempre video che riguardano quick 2 e anche quick il primissimo quick e così via detto questo ragazzi bando alla ciancia andiamo subito con giocatore singolo dunque facciamo nuova partita facciamo quick 2 allora tutorial no facciamo direttamente quick 2 facciamo un un medio dai per non fare il facile vi tolgo è che no dai volevo vedere l'introduzione ma mi sa tanto che ho sbagliato tasto va bene dai dunque signori si parte obiettivo secondario trovo l'ascensore della base l'unica cosa ragazzi che vi posso dire è quello che non conosco il gioco perché è la prima volta che lo sto giocando e quindi vediamo un po insieme come andare avanti dai dai e così ok occhio allora vi ricordo ragazzi che abbiamo selezionato la difficoltà media quindi sicuramente ci faranno un pochettino di male ok adesso è morto recupera vai vai così vai così e basta muori queste qua non lo che a ok servono per farla esplodere bene dunque là c'è acqua però non so se possiamo andare in acqua non mi dite nulla ragazzi ma praticamente ho tolto la la musica perché non vorrei avere problemi di copyright dunque non so nemmeno io dove cavolo è che sto andando adesso ci vediamo e adesso vediamo un attimino dove che sto andando questa acqua è stagnante nulla ok dunque abbiamo soltanto una pistola e non abbiamo nient'altro qua non so nemmeno dove siamo cartucce bene dell'altra vita dunque ritorniamo indietro perché di là di qua recupera allora shift per accovacciarti armatura dove siamo spawnati stiamo tornati indietro credo forse di no scusi buon uomo lasci fare giusto due secondi poi dopo sicuramente più andremo avanti più sarà molto più difficile e basta cosa è tutta sta cattiveria delle cartucce buono olè finalmente un bel fucile a pompa allora di qua nulla di qua nulla allora fucile a pompa corazza leggera blaster cartucce bussola per potervi dire quantomeno i miei obiettivi dov'è che le vado a trovare i miei obiettivi forse sicuramente non ce ne sono non lo so comunque come detto ragazzi è la prima volta che gioco a quick 2 nansed quindi siate magnanimi magari se avete dei buoni consigli da darmi mi raccomando fatemi sap un pochettino un po' troppo lento a fare il giochino lì eh bene aia cavolo questo qua però la vita te la toglie tutta eh sto brutto male educato guarda questi allora qua non c'è niente però aspetta andiamo avanti sali occhio scusi giovanotto ma vedi che lo sto sparando ma non non si è girato o meglio per noi eh cartucce bene allora abbiamo trovato l'ascensore usa le gallerie delle fogne ah ok per poter arrivare al centro di comando ancora vivo eh madonna come detto ragazzi questa qua questa è la vita te la tolgono in un batter d'occhio la vita eh chi è che sta rompendo i maroni lassù scusi giovanotto che fa insiste e insiste si guarda là recupera vita ok occhio ole recupera morto questo qua non so ah aspetta forse ah ok è per questo uhlala finalmente pure noi ci abbiamo ermitrozzino eh allora questo qua è un pochettino più corazzatino devo dire e quindi ci sta eh ci sta ma va bene tutto ma ci sta cartucce vita allora sento dei rumori andiamo avanti scusi giovanotto dica scusi buon uomo ancora vivo eh madonna con quanta cattiveria madonna mia però il come posso dirvi il cambio di armi è veramente molto bello andiamo se andiamo a vedere da dove dobbiamo andare allora qua niente qua niente scusate mi fate capire il modo perché devo andare qua nulla qua nulla allora forse evidentemente sto sbagliando io qualcosa ah ecco no ok ok allora questi qua sono molto più corazzati infatti si vede perché praticamente gli salta via la testa questi qua invece no sono un pochettino più più calmi diciamo così tra virgolette più calmi no aspetta devo correre mi sa accuccia tu eh eh fatemi vedere ma io posso anche saltare da un sì possiamo anche saltare da una parte all'altra bene occhio perfetto recupera munizioni morto bene aspetta buon uomo olè questo qua è molto più corazzato ah naturalmente ragazzi ho tutta quanta la grafica al massimo oddio è un gioco che non richiede poi così tantissima roba salve allora questa porta si aprirà altrove forse evidentemente si aprirà occhio si aprirà da qui proviamoci vediamo un po' andiamo un po' in giro andiamo un po' a vedere allora qua non c'è nessuno qua abilitiamo questo recupera vita occhio ah ok perfetto trovo il centro di comunicazione salve giovanotti scusate giovanotti ciao caro tu là sotto occhio bene perfetto occhio allora per usare questo oggetto devi prima attivarlo respiratore per quale motivo no aspetta allora oh che cavolo ci stanno pure i cosi qua mamma mia ma con che linguaccia me lo dice no però io non volevo mettere la bussola scusate volevo volevo toglierla la voglio togliere io la bussola però non la volevo mettere qua non c'è niente no ok ci stanno sti cosi qua che ti slinguazzano come se non ci fosse un domani allora per il mitrone abbiamo finito le munizioni ah no ok dai su si toglie in modo automatico ok andiamo a vedere qua nella vita allora per usare questo oggetto devi prima attivarlo ok altre munizioni bene perfetto andiamo occhio abbiamo finito tutte quante le munizioni bene allora là c'è l'armatura però non so come fare per poterla prendere ok come faccio per poterla prendere la c'è sta credo acido no aspetta era quello là sopra però ce ne sta un altro occhio recupera recupera dove va buon uomo mi ha dato l'allarme praticamente mi sa di si abbiamo pochissima vita signori credo che tra un po' saremo morti recupera recupera credo che tra un po' ragazzi saremo morti non vorrei dire ma secondo me si allora ma noi siamo venuti di qua chiave blu aspetta recupera recupera qua nulla ok andiamo avanti che si può scusa giovanotto lascia fare ancora vivo aspetta l'armatura ok allora quad damage armatura ma dobbiamo ritornare di nuovo su vabbè credo che forse magari queste qua ragazzi saranno delle dei potenziamenti per il nostro personaggio ah no aspettate sì ho capito questo qui è uno è per farli fuori di men che non si dica aspetta recupera aia aspetta ma mica sanno aprire pure loro le porte eh sì aspetta che questo qua è molto più corazzato occhio occhio sticosi qua che ti slinguazzano come se non ci possono domani allora abbiamo bisogno di ah ok questo qua si rompe hai capito ah vabbè dai dov'è che eravamo adesso dai dammi un po' di medikit allora che cos'è non so che cosa ho combinato ma tutto questo per la chiave blu ma vabbè sicuramente al ritorno obiettivo secondario uso la chiave blu per entrare nel bunker alieno bene ci stanno pure gli alieni qua eh fate po' no vabbè aspetta mi hanno dato pure le le cosine le bombette oh signori molto bene per noi non dico di certo il contrario aia allora chiave blu eccola qui occhio mai visti cosi del genere che perdono sangue vabbè comunque no aspetta scu madonna morto credo di si aspetta che la mia mira pure fa schifo eh quindi ve lo dico a priori la mia mira fa veramente pietà non vi fidate mai della mia mira signori salve che si può caricamento ok bene salve molte munizioni eh molte munizioni va a capire aspetta occhio vatterà pesca qua che roba eh oh cavolo che ho combinato ah ho messo la passerella ok ma questo qui è il bunker alieno dovrebbe essere credo questo qua è il bunker ali no aspettate ma noi qua già ci siamo stati eeeh boh sapete che non mi ricordo no là fuori là già ci eravamo stati però recupera eh no ancora quei cavolo di cosi che vanno lanciando le eccala oh mo stavo a dirle no che re avvia il livello ma che sei pazzo ah no questo livello ok no pensavo che mo mi voleva far fare tutto quanto da capo allora forse quelli là è meglio farli fuori con il mitrone ancora vivo madonna sono veramente attaccati questi alla vita eh recupera cartucce ole salvia e muori qua niente allora forse non il mitrone ma questo forse sarà meglio e dai e muorici aspetta occhio 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 fatemi fatemi recuperare vita allora questo qua è per farli fuori subito diciamo così cavolo ho attivato questa si exit allora aspetta prima dell'exit qualche zona segreta e infatti allora questo qua è molto più possente com'è che si chiama granate cartucce proiettile bussola plaster fucile a pompa la doppietta oh e basta eh però sono quasi morto però se mi date un po' di vita magari madonna me la son vista brutta eh un po' di vita niente qua tutti morti ma penso spero di si ok va bene allora ce ne possiamo andare allora qua dove era exit eccolo qua questa è la fine dell'unità ok e vabbè dai ce ne mancava uno lascia fare è tutto come ci pensi ok ok allora devo dire ragazzi che questo quick 2 è molto bello mi sta garbando mi sta piacendo poi poi non so se a voi piace ma a me si o meglio non so se anche voi l'avete provato spero di si eh bene è esploso male si recupera doppietta granate aspetta aspetta ah è l'ascensorino e vabbè quindi no non funziona così e mi sembra di no aspetta eh ah no ok ok cartucce eccala madonna mi hanno one shot mi hanno one shot come se non ci fosse un domani signore ciao caro eh scusi caro allora obiettivo secondario trovo l'ingresso della sezione di rifornimento però non ho letto il primario o meglio l'obiettivo primario non non l'ho letto che questi qua te one shot hanno ho detto io che questi qua te one shot portano come se non ci fosse un domani sti maledetti o allora abbiamo attivato che è qualcosa all'amo ma pure le mosche e dai ma che schifo ma dai ma ci stanno pure le mosche qua i mosconi occhio che abbiamo veramente pochissima vita qua non so chi è che mi abbia sparato ma qualcuno è stato eccolo la muori e muori aspetta occhio aspetta occhio basta cartucce granate eh sì meglio andare un pochettino in giro e vedere un po' quanta roba c'è da recuperare ancora e basta allora lo evidentemente servirà qualcosa forse sì però non riesco a capire cosa questo qua è per questo ah no aspetta questo è per questo quasi attiva qui fatemi salire ascensore che ci porta su aia te pareva volevo prendere la vita attiva qua la passerella madonna giusto in fronte con che madonna con che urlo l'ha fatto tra l'altro occhio qua che non mi fido aspetta fai così aspetta occhio no 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 via via e basta muori cavolo no perfetto morto c'ho bisogno di vita senti passa al mitrone e vabbè che tanto comunque il mitrone c'è mitrone poi non so nemmeno quante quante armi abbiamo a disposizione questa qui si apre altrove quindi mi sa che adesso mi conviene tornare indietro di qua e di qua giusto si apre altrove ma dove allora aspetta grazie no devo ritornare anzi vorrei ritornare giù allora se questa qui mi porta giù o meglio non so da dove si possa comunque attivare quelle porte forse di qua allora di qua forse no questa qua mi porta su e ok questa qua si apre questa anche qua già ci siamo stati che comunque mi dice che quelle due lì forse magari là dentro ah ok no non non l'avevo capito questo serve per questo questo serve per ah ok e mo per farlo ritornare indietro aspetta però prendiamoci un altro po' di vita e niente dai ok buono ah no ok ritornati indietro dai no no pensavo che non torna ah ecco soltanto non credo soltanto per questo allora aspetta famo così andiamo a vedere qua area segreto ok perfetto quindi dobbiamo andare per forza di queste di qua aspetta occhio cartucce altra porta decavolus aspetta aia questi qua però non ci muoiono così facilmente rimetti il pompazzone qua aspetta occhio giovane che sta a fare l'imboscata eh vabbè con il laserone qua ah no aspettate però mi sa che se stavano ammazzando tra di loro però eh se stavano ammazzando tra di loro morirci subito tu no eh mai nella vita guarda quello madonna aspetta dunque allora vita vita ancora non ho troppo di vita munizioni nulla questo abbassa questo questo abbassa questo guarda quello là sopra oh giovane è finito dunque vediamo un po' questa niente e forse mi sa che ce ne dobbiamo andare di qua ce ne dobbiamo andare via questa porta si apre altrove allora qua niente allora cerchiamo di capire ragazzi cerchiamo di capire perché come detto questo qui è molto più difficile rispetto al primo allora di qua nulla recupera occhio tu ci mancavi ascensore ascensore aspetta no quello là no però non vorrei che mi sono lasciato roba dietro aspetta guarda questo come faccio ad attivare e no e niente aspetta ah no ok via 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 aspetta occhio no vai così aspetta madonna ole se magari mi date un po' di vita guarda la gradirei un po' qui qua niente ok e basta faccia poco lo spiritoso buon uomo in fondo al mar in fondo al mar allora là quelle là galleggiano recupera eccola ci stanno pure i piragna perfetto aziona non so che cosa abbiamo azionato ma e niente viaggio troppo lungo signori e niente maledizione ok prendi prendi tutto brutti maleducaia ma chi è guarda questi come se ne approfittano del sottoscritto cacchio vai vai stai laggiù stai guardalo tanto credo che comunque eh vabbè ma quante cavolo di porte ci sta ma quante porte ci stanno no dai sono veramente troppe mo va bene tutto però ti è guarda qua dai muori però aspettate la porta che era questa qui se vi ricordate la scaletta infatti ok quindi di là mi sa che possiamo ritornare pure indietro qua non so che roba sia servono i cubi energici per ripristinare l'energia bene e quindi mondo è che li vado a prendere sti cubi energici dove li vado a prendere questi cubi energici obiettivo secondario ottieni 4 cubi energici per ridare energia al magazzino ok dai ragazzi allora io direi che per questo primo episodio della serie di quick 2 nanse ed è tutto mi raccomando fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate mi raccomando vi invito a lasciare un like a commentare ad iscrivervi attivare la campanellina a condividere il video e noi ci becchiamo molto presto in un nuovo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti 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 Grazie a tutti.